Marte chiama, terra e sponde, astronomia per bambini, ma anche per adulti. Io mi chiamo Emi Caffeggerini, ma tutti mi chiamano Astroemi. E sono un'appassionata di pianeti e di stelle. L'universo è un luogo enorme, grandissimo e infinito. E tante cose sono ancora da scoprire e da capire. E allora informatevi con me. Grazie a tutti.